La dittatura ISG. Che cosa intendiamo dire? ISG è un acronimo e sta per Environmental, Social e Governance, cioè questioni ambientali, sociali e di governo. L'acronimo ISG identifica l'Agenda ONU 2030 per il cosiddetto sviluppo sostenibile di cui abbiamo già parlato in una pillola precedente, che è un po' il cuore dell'obiettivo del grande reset. Anche di questo argomento abbiamo già trattato. Volevo attirare l'attenzione un attimo proprio sul tema ISG, perché gli obiettivi dell'Agenda ONU 2030 sono focalizzati su questi tre pilastri, il pilastro ambientale, quello sociale e quello di governo, dove sicuramente l'aspetto ambientale è uno dei punti più rilevanti. Si parla di rivoluzione verde, si parla di decarbonizzazione delle economie. Una svolta green che parte dal presupposto che il pianeta è a rischio, non abbiamo più tempo, c'è il riscaldamento globale che avanza, il cambiamento climatico di pretesa origine antropica legato all'emissione di anidride carbonica, di CO2, quindi sostanzialmente si dice che bisogna fare in fretta, bisogna intervenire subito, costi quel che costi, per azzerare le emissioni nette di anidride carbonica in modo da orientare il mondo verso un sentiero di sviluppo sostenibile. Il termine sostenibile, come sapete, è un termine molto ambiguo perché parte dal presupposto che l'uomo sia sempre il problema e non parte della soluzione e quindi si sostanzia poi di fatto con l'obiettivo del controllo della popolazione mondiale. Infatti tra i contenuti dell'agenda ONU 2030 ci sono proprio i famosi o meglio famigerati diritti sessuali e riproduttivi che al di là del nome che suona magari anche bene, significa poi in realtà promozione dell'aborto, della contraccezione e della sterilizzazione proprio per contenere la crescita di questo grande nemico del pianeta che sarebbe l'essere umano. Un altro punto importante, sempre parlando di questi nuovi diritti civili dell'ONU, sono le tematiche gender e con tutto poi il risvolto della promozione dell'agenda LGBT. Ecco, perché è importante concentrarsi su questo aspetto? Perché l'ONU intende imporre in modo centrale e dirigistico questa agenda, quindi questi obiettivi ambientali, sociali e di governance, agendo a vari livelli. Uno dei livelli che viene utilizzato è quello finanziario. Le società di grande dimensione riceveranno una pagella IRG che certificherà quanto sono appunto in linea con questa agenda ONU e le aziende che avranno una pagella buona tireranno flussi di investimento pubblici ma anche flussi di investimento privati perché gli intermediari finanziari, quindi le banche, le società di gestione del risparmio andranno a indirizzare i risparmi dei propri investitori solo verso quelle aziende che dimostrano di avere un elevato scoring IRG. Quindi immaginate il potere anche delle agenzie di rating, quelle che saranno chiamate a dare questo, anzi lo stanno già facendo, che danno quindi la pagella alle aziende perché di fatto vanno a indirizzare indirettamente anche gli investimenti privati. Poi le stesse aziende che avranno una pagella brutta da un punto di vista IRG avranno ovviamente più difficoltà a ottenere finanziamenti, avranno più difficoltà a collocare azioni o obbligazioni sui mercati finanziari, quindi in qualche modo è chiaro che agendo sui mezzi finanziari si va a falsificare la concorrenza perché sia gli investimenti pubblici sia gli investimenti privati a questo punto verranno canalizzati nella direzione pro IRG che vuol dire a scapito delle altre aziende. Oltre alla leva di tipo finanziario ci sarà anche ovviamente la leva fiscale, quindi da un lato gli incentivi alle società ritenute meritevoli e dall'altro i disincentivi nei confronti di tutte le altre. Quindi sostanzialmente si sta cercando di utilizzare la leva finanziaria per promuovere questa agenda e l'altro punto di cui abbiamo già parlato trattando del grande risetto è sicuramente la propaganda perché si cercherà di spingere i risparmiatori a indirizzare i propri investimenti in questa direzione e dall'altro si cercherà di spingere i consumatori a cambiare il proprio modello di consumo. Quindi è un'agenda molto pervasiva che andrà nella direzione di ridurre gli spazi di libertà e aumentare la pressione fiscale. Grazie per la visione! Grazie!